Musica Atti vandalici, furti e risse per futili motivi arriva il daspo urbano per la baby gang di Piazza Redi Nei guai anche 5 persone per ubriachezza, violenza e atti osceni in luogo pubblico A Sant'Orso di Fano l'addio a Fabio Guccioni, politico e uomo dal cuore solidale Evasore fiscale presenta documenti falsi per chiedere il dissequestro dei beni Scatta un'altra denuncia per l'imprenditore di Fermignano Parcheggia pagamento sul lungomare di Fano monta la protesta di residenti e lavoratori esclusi Dalle nuove convenzioni, l'Udc lancia una petizione popolare A Mondolfo proseguono lavori di asfaltatura nelle vie più ammalorate del territorio Mentre a Pesaro, Ricci e Belloni annunciano un milione e mezzo per interventi sulle strade, marciapiedi e piste ciclate Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con i DASPO notificati dal prefetto Vittorio Lapolla Si tratta di giovani e adulti che per 5 anni non potranno più frequentare alcune zone di Pesaro In caso di violazione della misura rischiano l'arresto e la multa fino a 20.000 euro Ha seguito la conferenza stampa per noi, quella che si è svolta questa mattina in prefettura a Pesaro La questura di Pesaro ha notificato i cosiddetti DASPO urbani nei confronti di 6 persone Cioè il divieto di frequentare determinate zone della città a soggetti ritenuti socialmente pericolosi Le misure sono state prese nei confronti della baby gang che agiva nel quartiere di Loreto in Piazza Redi Una banda già nota alle forze dell'ordine che vede il coinvolgimento di molti minori Tra essi c'è anche un ragazzino di 10 anni In tal caso sono stati emessi due DASPO a due sedicenni coinvolti in danneggiamenti, furti e in aggressioni futili ad un passante Ad essi è stato notificato il divieto di accesso a tutta l'area di Piazza Redi e ai servizi commerciali della zona Assieme all'obbligo di presentazione in questura per tre volte alla settimana Inoltre ad un diciottenne coinvolto anch'esso nella vicenda è stato notificato un avviso orale Nonché la misura di prevenzione che consiste nell'intimazione a modificare la propria condotta di vita socialmente pericolosa A far parte della banda che ha agito nei mesi scorsi in Piazza Redi circa una decina di ragazzi del posto Che utilizzavano il quartiere come punto di ritrovo Abbiamo deciso di intervenire con questi DASPO Willi che appunto sono stati da poco introdotti dal decreto legislativo 2020 A persone anche ultra 14 anni quindi anche minorenni che abbiano commesso anche solo già un fatto di reato O anche più denunce oppure un arresto, un fermo purché convalidati dall'autorità giudiziaria E in diciamo nei pressi di locali pubblici, locali aperti al pubblico o comunque determinate aree urbane e centri commerciali E quindi per due ragazzi minorenni di 16 anni Una volta che abbiamo notato che gli episodi si stavano un attimo incentivando Abbiamo deciso di intervenire con questi due DACUR, cosiddetti DASPO urbani Gli altri quattro divieti di accesso ad aree urbane notificati riguardano invece persone tra i 22 e i 50 anni Tra questi c'è anche una donna già coinvolti in passato a vario titolo in reati contro il patrimonio Comportamenti violenti e ubriachezza consumati nella zona del centro commerciale Cop Miralfiore di Pesaro Anche lì abbiamo emesso dei provvedimenti analoghi Quindi diciamo che lì prima c'era una situazione sicuramente di disagio con persone Anche queste tutte con precedenti, reati contro la persona, contro il patrimonio, manifesto ubriachezza Però siamo intervenuti una volta che invece l'ufficio prevenzione generale del soccorso pubblico È intervenuto su richiesta dei cittadini per una rissa gravata con bastoni Allora lì abbiamo deciso di intervenire, abbiamo emesso quattro DASPO urbani a queste persone Quindi anche loro avranno il debito di accesso nel centro commerciale, negli esercizi dentro il centro commerciale, nei parcheggi e nelle aree rimitrofe La violazione è punita con l'arresto da sei mesi a due anni e con una multa fino a 20.000 euro Quindi diciamo è abbastanza cogente ed è immediatamente attiva Poi seguirà l'esercizio penale con le varie denunce Un altro avviso orale infine è stato notificato dal questore ad un 52enne Noto per essere stato il protagonista di più episodi di atti osceni e i danni di minori L'ultimo dei quali si è verificato nel centro storico di Pesaro nei pressi di un istituto scolastico E oggi la città di Fano ha dato l'ultimo saluto a Fabio Uguccioni, ex assessore e presidente della Fondazione Fano Solidale Il servizio di Filippo Pucci La chiesa Santa Maria Goretti di Sant'Orso ha accolto per l'ultima volta il feretro di Fabio Uguccioni Grande persona conosciuta in città come ex assessore ai servizi sociali del comune di Fano Presidente e successivamente vicepresidente della Fondazione Fano Solidale Uguccioni è deceduto all'età di 65 anni lunedì mattina scorso Dopo aver combattuto contro una grave malattia ai polmoni Alla funzione religiosa celebrata da Don Giorgio Giovanelli Oltre alle numerose persone che gli hanno voluto bene e che hanno riempito la chiesa fino al suo limite per le restrizioni da Covid Erano presenti anche i familiari, la moglie Rossella e la figlia Gaia, le cariche civili e militari Io la Fabio vive una gioia che noi non riusciamo neanche di immaginare Perché è la gioia che gli proviene dall'avere davanti a sé il volto di Dio Quel volto che ha cercato, quel volto per cui ha faticato Quel volto per cui ha anche sofferto Ogni qualvolta soffriamo per la giustizia Ogni qualvolta soffriamo per la verità Ogni qualvolta soffriamo per i valori umani che sono anche cristiani Noi soffriamo per il Vangelo A volte anche senza saperlo, ma il Signore lo sa E neanche un bicchiere d'acqua davanti a Dio cade inosservato E quanti bicchieri d'acqua Fabio ha dato nella sua esistenza, nella sua vita Quanti? Nessuno di essi, nessuna voce cade dimentica davanti a Dio Uno scrosciante applauso ha accompagnato poi l'uscita del feretro dalla chiesa A dimostrazione che Fabio era una persona amata e ben voluta da tutti Una persona di grande capacità e grandi qualità Poi il ricordo della figlia Gaia e del sindaco di Fano, Massimo Seri Fabio è stata una mente lucida, una intelligenza critica e un uomo solidale Come veniva ricordato anche nell'Omelia da Don Giorgio La sua è stata una testimonianza e una presenza importante in questa città Una persona che ha cercato sempre magari di rompere gli schemi guardando lontano Essendo anche un po' rivoluzionario e guardando anche chi rimaneva indietro Felice intuizione di Fano Solidale dove veramente è stato uno strumento Che ha dato tante possibilità e ha aiutato tante persone Un'occasione di saluto, di dolore ma anche un modo per ringraziarlo Per la testimonianza che ha lasciato e per l'opera che ha fatto in questa città Da uomo e da amministratore Insomma mi sento di dire che penso il giudizio più bello che una persona possa avere Quella che un sindaco, una comunità dica che Fabio è stata una persona per bene La salma poi è partita alla volta del cimitero di Rosciano I vigili urbani sono intervenuti in tre incidenti che si sono verificati questa mattina a Fano Il primo sinistro è accaduto alle 9.15 in Viale Cairoli nella zona del Lido All'intersezione con via Castellani Due le auto coinvolte, una Polo e una Scoda Fabia condotta da altre tante donne residenti a Fano Che ne sono uscite illese Il secondo incidente è stato rilevato alle 11.30 in via Van Vitelli A scontrarsi sono state una Ford Ka condotta da un fanese di 47 anni E un Alfa Romeo Giulietta con a bordo un anconetano di 37 anni La Giulietta procedeva in via Van Vitelli in direzione Monte Quando, mentre rallentato per svoltare a sinistra verso un'abitazione privata È entrato in collisione con una Ford Ka che stava sopraggiulgendo Tentando di superare la Giulietta Numerosi i danni sia ai veicoli che al cancello della casa Nello stesso orario è accaduto un altro incidente Che ha visto coinvolti un'auto e una bici Si tratta di un'Opel Corsa condotta da un fanese di 32 anni Che da via Bellandra ha svoltato a destra verso via Cappelli È un ciclista fanese di 88 anni che stava effettuando la manovra opposta Per immettersi da via Cappelli in via Bellandra Non è certo se ci sia stato un urto tra i due veicoli Ma l'anziano è caduto a terra e ha riportato diverse lesioni L'uomo è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso di Fano Ha presentato documenti falsi per ottenere il dissequestro dei suoi beni Un imprenditore di Fermignano è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza Letizia Marchioni Ha presentato documenti falsi per ottenere il dissequestro dei suoi beni L'imprenditore 48enne di Fermignano denunciato dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Urbino L'uomo imprenditore operante del settore dell'abbigliamento Era già stato denunciato alla Procura di Urbino da parte delle Fiamme Gialle Dopo una verifica fiscale a seguito della quale era emersa una consistente evasione tributaria Il GIP del Tribunale di Urbino aveva disposto il sequestro preventivo Finalizzato alla confisca dei beni per oltre 1.860.000 euro Corrispondente all'ammontare dell'imposta evasa contestata Per ottenere il dissequestro dei beni, l'uomo risulta aver presentato al giudice una istanza Allegando una missiva dell'Agenzia delle Entrate In base alla quale l'amministrazione finanziaria avrebbe accolto una sua richiesta di rateizzazione Nonché la quietanza di pagamento della prima rata del piano concordato con l'ufficio Le indagini svolte dai militari hanno evidenziato che in realtà l'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate Non era stata accolta e che la quietanza di pagamento presentata dall'imprenditore Era riferita a debiti tributari di annualità successive Visto quanto è emerso dalle indagini all'imprenditore È stato negato il dissequestro che aveva provato ad ottenere Ed è stato anche denunciato alla Procura di Urbino Che ha quindi provveduto a formulare per l'uomo La richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di reato contestata E se ieri nelle Marche non sono stati registrati i decessi per coronavirus Nelle ultime 24 ore sono morte due persone Un uomo di 75 anni di Ascoli Piceno e un 91enne di Monte San Giusto I nuovi positivi invece sono 130 di cui 52 nella provincia pesarese Seguita da quella di Macerata con 30 casi Anche oggi si registra un netto calo di ricoveri Negli ospedali delle Marche ci sono 20 pazienti in meno rispetto a ieri I degenti in terapia intensiva scendono a 44 Mentre quelli in semi intensiva a 77 E a Urbino cambia il punto vaccinale L'area Vasta 1 fa sapere che da venerdì 21 maggio La sede verrà spostata al bocciodromo comunale di via Pablo Neruda numero 1 Mentre quella che è allestita al pala Carneroli Verrà chiusa in modo definitivo dalla stessa data Gli appuntamenti di giovedì 20 maggio sono stati spostati al giorno successivo Quindi nella nuova sede E i cittadini sono stati informati attraverso un messaggio Sarà necessario scaricare i moduli sul sito dell'Asur E recarsi all'appuntamento con i documenti già compilati A Dancone invece prendono il via da venerdì Le vaccinazioni al pala Rossini Da sabato poi l'attività entrerà a pieno regime Con 1200 prenotati al giorno Tutte le prenotazioni con indicazioni Paolinelli Il luogo in cui si svolgono attualmente le somministrazioni Saranno trasferite al pala Rossini Senza ulteriore comunicazione da parte dell'Asur E adesso torniamo a parlare dei parcheggi a pagamento Sul lungomare di Fano Perché dopo l'annuncio di ieri sulle agevolazioni Per alcuni residenti, per gli operatori della pesca Monta la rabbia degli esclusi In particolare i titolari delle attività Convenzioni sì, ma non per tutti Potremmo riassumere così la manovra correttiva del comune di Fano Che dopo le numerose lamentele sulle soste a pagamento Ha deciso di andare incontro agli operatori della pesca Che potranno lasciare gratuitamente le auto negli stalli di fronte al porto Agevolazioni dal 14 giugno Anche per i soli residenti di Via L'Adriatico Via Spontini e Via Le Cairoli Questi con un bollo annuale di 16 euro Non pagheranno il parcheggio dalle 19 alle 8.30 E nella pausa pranzo dalle 12.30 fino alle 15.30 Esponendo il contrassegno Altra possibilità, sempre per loro È quella di richiedere ad Aset Un abbonamento dal costo di 30 euro Applicabile per un'auto a nucleo familiare Che può essere parcheggiata nelle stesse vie H24 Per clienti, lavoratori e altri residenti Nessuna convenzione La cosa non mi riguarda perché ho il garage Quindi il problema per me non sussiste Però molti della zona che devono comunque sia parcheggiare Diventa una spesa molto elevata Quindi ci vorrebbero delle convenzioni Comeppure ci vorrebbero delle convenzioni Per le persone che lavorano Perché dal momento che comunque sia Devono parcheggiare Spendere dei soldi per intero Per tenere la macchina Cioè conviene che stanno a casa E prendono il radio di cittadinanza Perché così facendo Uno non rischia la multa O non paga 50 centesimi di più un caffè Ha una proposta ad avanzare al comune? Ma io, sì Potrei dire di trovare un'area dove poter far parcheggiare Comunque sia Sia chi lavora Sia i residenti Sia chi vuole semplicemente farsi un giro per Fano Un parcheggio fuori E un bus e navetta Che ci collega con la città Dove abita lei? Io abito qua dietro Praticamente in via Nazario Sauro Quindi non avrebbe il parcheggio gratuito Tantomeno le convenzioni Come ha preso questa notizia? Ma lo ha presa da fonti così Da Fano tv e da internet eccetera Mi sembra una scelta assolutamente assurda e fuori luogo In quanto come residente e come possessore di permesso ZTL Quindi già pago una tassa annuale Mi sembra veramente surreale, metafisico Che io debba pagare le strisce blu Lo vorrebbe gratuito? Certo Come a Napoli, a Roma, a Milano, a Firenze E le grandi città Se Fano deve essere una grande città E deve lanciare il turismo Se non altro che i residenti Lanciano il turismo dicendo È una bella città Che dia una specie di promozione in questa maniera E sono diversi anche i titolari di attività Che si affacciano su via Nazario Sauro Delusi dalla mancanza di un confronto e di convenzioni Effettivamente è vero, magari questa cosa può dare giro ai parcheggi Però prima di fare una cosa del genere bisogna prevedere delle soluzioni per i commercianti Per i residenti e via dicendo Per i residenti hanno provveduto Per noi ancora diciamo che non c'è nessuna notizia E comunque sono cose che andavano fatte prima a prescindere E adesso speriamo che qualcuno ci metta la mano Anche perché per i dipendenti Se non per me quanto per i dipendenti Vengono a lavorare a 10 euro al giorno di parcheggio Cosa li rimane? Cioè niente Quindi voglio dire Boh, vediamo un po' Questa mattina inoltre Alcuni imprenditori ci hanno fatto notare Anche la segnaletica verticale Troppo alta e spesso non facilmente visibile Dagli automobilisti Che quindi entrano nel controviale E vengono multati La ritiene giusta, corretta questa rivoluzione dei parcheggi? Secondo me il problema c'è e rimarrà anche in futuro Prima o poi probabilmente rimarrà così Perché hanno deciso già a Monte Visto che sono state fatte già tutte le cose Senza secondo me chiedere O anche se hanno chiesto Noi qua non lo sapevamo E in questo caso, nel mio caso Non ho più un parcheggio al volo per i clienti Non ho più un carico e scarico Che si trovava di fronte al mio negozio Cioè c'è Ancora c'è Ma è stato coperto da linee blu E' cancellato Quindi io voglio sapere dal sindaco O da chi ha organizzato Tutta questa cosa Se era fattibile tutto quello che hanno fatto O se c'era anche una Qualche possibilità di poter lasciare Qualche parcheggio libero Per un cliente occasionale O comunque per qualcuno Che non ha possibilità di pagare E pagarsi un parcheggio A lungo termine Perché poi alla fine parliamo di quanto 7, 8, 10 euro al giorno Se la lasci fissa I residenti qua Non hanno un parcheggio Dentro casa Hanno solo la possibilità di parcheggiare Qui davanti Non avendo più questa possibilità Dove la mettono? E la topa è peggio del buco Così Polegioni del vecchio Dell'Udc Che criticano Le scelte del comune Sui parcheggi Ci chiediamo Hanno scritto in una nota Se l'assessore Tonelli È in vena di scherzare O se fa sul serio Come si può anche solo pensare Di tartassare Cittadini e imprese Nel grave momento Di crisi sanitaria Ed economica Che stiamo vivendo L'Udc Che farà partire Una petizione popolare Chiede con forza Uno stop immediato Alle zone a pagamento Nella zona mare Almeno fino al 2022 E per evitare La sosta selvaggia Ma nel lungomare Di Fanusud Il comune concederà Ai gestori Degli stabilimenti Balneari Alcuni terreni Da adibire a parcheggio Servizio dei clienti Le aree si trovano Nella località Di Ponte Sasso E in quella di Ponte Metauro E verranno concesse Locazione Ai titolari Degli stabilimenti Per quattro anni Rinnovabili Al fine di essere Adibite esclusivamente Alle soste Durante il periodo estivo Gli affidatari Quindi dovranno pagare Un canone Ma con l'obbligo Di assicurare La manutenzione Per tutto l'anno Per l'area di Ponte Sasso Il bando è già in fase Di pubblicazione Sul sito del comune E adesso ci spostiamo A Mondolfo Dove proseguono I lavori di asfaltatura Nelle strade più critiche Del territorio comunale Risorse ingenti Per sistemare Le vie più ammalorate Di Mondolfo L'amministrazione comunale Ha stanziato 200.000 euro Per rispondere Alle situazioni Di maggiore criticità Individuata nei mesi scorsi Gli ultimi interventi Hanno riguardato Via Molino Vettio Via Cardarelli E il parcheggio Tra Viale delle Regioni E Via Molise A fare il punto Invece su quelli in corso È il sindaco Nicola Barbieri Dopo gli interventi Realizzati Ad autunno Dello scorso anno Ora continuiamo Con altre vie Critiche Della nostra città In questi giorni Stiamo intervenendo A Mondolfo Vicino al centro storico In via degli Olivi Via Buonacesta E via Monte Ciappellano Quest'ultima via Che prevede Non solo Lavori di rifacimento Del manto stradale Ma anche interventi Sui drenaggi E sul sottofondo Stradale Ogni anno Come amministrazione comunale Mettiamo A bilancio Delle risorse Proprio sulla sicurezza Stradale Per rifacimento Della segnaletica Per il rifacimento Del manto stradale Con l'obiettivo Di migliorare La sicurezza Per i nostri cittadini E l'immagine E il decoro Della città Siamo consapevoli Ha aggiunto il primo cittadino Che ci sono anche altre vie Che necessitano di lavori Ma in queste Non è ancora possibile Intervenire Perché sono in corso Le opere per la posa Della fibra ottica Quando si concluderanno Sarà Open Fiber Che procederà A ripristino definitivo I lavori Proseguiranno anche Nei prossimi giorni Nelle prossime Settimane Con altre vie Del territorio comunale E a Pesaro invece Ricci e Belloni Hanno annunciato Un milione e mezzo Per l'asfaltatura Di strade A marciapiedi E piste ciclabili I lavori Verranno eseguiti Nelle strade Più trafficate Come ad esempio Via Solferino La strada Statale 16 E strada Monte Feltro Non solo Spiega Belloni Andremo a sistemare Anche tratti compromessi Che a causa Delle condizioni Meteorologiche avverse Hanno riportato La presenza di buche O deformazioni Punti della città Che ci sono stati indicati Dai rappresentanti Di quartiere Gli interventi Dovrebbero concludersi Entro la fine dell'estate Poi si passerà Al centro storico In previsione Anche la straordinaria Manutenzione Della pavimentazione Di piazza Del popolo E a Pesaro Invece Ricci e Belloni Hanno annunciato Un milione e mezzo Per l'asfaltatura Di strade A marciapiedi E piste ciclabili I lavori Verranno eseguiti Nelle strade Più trafficate Come ad esempio Via Solferino La strada Statale 16 E strada Monte Feltro Non solo Spiega Belloni Andremo a sistemare Anche tratti compromessi Che a causa Delle condizioni Meteorologiche avverse Hanno riportato La presenza Di buche O deformazioni Punti della città Che ci sono stati Indicati Da rappresentanti Di quartiere Gli interventi Dovrebbero concludersi Entro la fine Dell'estate Poi si passerà Al centro storico In previsione Anche la straordinaria Manutenzione Della pavimentazione Di piazza del popolo Disagi al porto Di fano A causa Della chiusura Con una sbarra Dello scivolo Per il varo Delle barche Dopo aver raccolto Diverse lamentele Il consigliere regionale Giacomo Rossi Ha scritto Alla presidente Della regione Al vice sindaco Di fano E alla capitaneria Di porto In seguito Ad alcune segnalazioni Mi sono occupato Della questione Relativa Allo scalo Di varo Ed all'agio Del porto Di fano Interessando regione Comune di fano Ed organi Preposti Infatti Lo scivolo Per il varo Delle barche Situato a fianco Al porto Marina De Cesari Pur essendo Adduso pubblico È chiuso Da una sbarra Il che comporta Che i proprietari Di barco Meggiati fuori dal porto Così come Gli utenti occasionali Siano costretti A rivolgersi A servizi A pagamento Per il varo De maniali Nei confronti Delle associazioni Senza scopo Di lucro Ho appreso Che sabato scorso Nel comune di fano È stata affrontata La questione Dello scalo Di varo Assieme Alle associazioni Di portistiche E al concessionario Ecco Mi auguro Che Entrambe Le problematiche Vengano risolte In breve tempo Perché Ciò consentirebbe Al porto Di fano Di ottenere Una maggiore presenza Di turisti sportivi Portando beneficio A tutta la città E subito Dopo di noi Le previsioni del tempo E poi uno speciale Dedicato a un'azienda Che ha la sede Nel comune di terre Roveresche Ma che nei giorni scorsi Ha inaugurato Aperto un nuovo sito Produttivo A pianaccio Di Mondavio Allora Buona serata a tutti voi Arrivederci domani Per Grazie a tutti.